Oggi apriamo questo spazio, che è uno spazio sicuramente molto più frequentabile per i cittadini in un momento che sicuramente è complicato per la vita di ognuno, cioè quando si vanno a pagare i tributi comunali che è un momento fondamentale per la comunità, però è giusto in qualche maniera accogliere il contribuente dei locali migliori che offrono anche maggiori servizi. C'è stato un adeguamento delle infrastrutture informatiche come è normale che sia in questo tempo, ma soprattutto stiamo attivando una serie di servizi dedicati a categorie speciali, in particolare anche di concerto con le associazioni di categorie degli artigiani e commercianti di risolvere un po' il problema della determinazione degli spazi dedicati ai rifiuti speciali per da scomputare rispetto alla Tari, che è una cosa che ci hanno richiesto, rispetto alla quale cerchiamo di fare meglio e anche rispetto ai patronati a dedicare delle linee speciali, insomma per fare in modo che il servizio possa essere erogato sempre nel modo migliore possibile e ci saranno da quest'anno anche delle novità interessanti su piano delle opportunità tecnologiche per favorire il rapporto tra l'ente e il cittadino in questo momento che il pagamento dei tributi.